Potrà soddisfare anche le esigenze dei comuni limitrofi, secondo l'assessore comunale Alessandro Bevilacqua, il nuovo centro di raccolta di rifiuti di 2.000 m2 a Chieti. I lavori, costati 400.000 euro, spesa sostenuta da Formula Ambiente, società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, sono consistiti nel rifacimento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, del rifacimento del manto stradale e dell'impianto di lavaggio di rimessa degli automezzi, nella pavimentazione industriale con trattamento in fibre di carbonio, nell'installazione della pesa a ponte, dell'impianto di videosorveglianza e dei setti di separazione per la suddivisione dei rifiuti. Il centro ha anche una rimessa per automezzi di 5.600 m2. Consegniamo ai cittadini di Chieti un nuovo centro raccolta, ha detto il sindaco Umberto Di Primio, che sicuramente può essere annoverato fra i migliori centri della provincia. Nel nuovo centro di raccolta comunale potranno essere conferiti i rifiuti ingombranti, gli oli esausti, gli sfalci dell'erba e gli inerti. Dove si incontrano le volontà del pubblico insieme a quelle imprenditoriali, nasce qualcosa di importante per la collettività. Oggi siamo qui all'inaugurazione del nuovo centro di raccolta in Contrada Santa Filomena, un centro di raccolta comunale che oserei dire potrà soddisfare anche i comuni limitrofi. Lo chiameremo centro di raccolta intercomunale, uno spiazzale di oltre 5.600 m2 con 2.000 m2 solo destinati al centro di raccolta. In questo sito verranno conferiti gli ingombranti, anche gli oli esausti, gli sfalci, la parte anche di materiali pericolosi come gli inerti. Riformo l'ambiente.